Era un grande amico, un grande servitore dello Stato, ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare con lui, l'ho visto anche fuori dai luoghi di lavoro, nel senso che me lo ricordo al mio matrimonio e in altre occasioni della vita normale di tutti noi, una persona straordinaria, dava serenità, io lo ricordo per questo, sia sul lavoro che fuori. Persona di grande qualità, di grande spessore, è un privilegio averlo conosciuto.